Ciao ragazzi, questo è il mio primo video su Youtube e vorrei dirvi, vi chiederei di lasciare like e di iscrivervi e questo canale è dedicato soprattutto a calcio e videogiochi videogiochi come Minecraft, Roblox e invece calcio come notizie, trasferimenti tipo ibrani, lpsg e cose del genere ovviamente io tipo Roma e quindi se siete romanisti seguitemi, ma anche se siete di altre squadre tipo Lazio, Juventus seguitemi lo stesso, che vi posso dare felicità e allegria